Se pensavate che avessimo finito di lanciare nuovi prodotti per quest'anno vi sbagliavate. Abbiamo ancora questi meravigliosi nuovi prodotti in arrivo in tempo per Natale, a cominciare da alcune giunte particolarmente festose. Con le festività in arrivo diffondete un po' di allegria natalizia con questo maglione e il cappello abbinato. Saranno perfetti per riempire la calza e per l'abbigliamento necessario per la festa di Natale con gli amici. I numeri sono molto limitati per cui siate veloci nell'ordinare il vostro. Saranno disponibili nelle taglie dalla S alla 4XL. Un altro cappello nuovo nella gamma per il prossimo inverno è il cappello a bucket in Sherpa. Si tratta di un comodissimo cappello bucket ricoperto da un morbidissimo e caldissimo pile Sherpa. Per quanto riguarda l'abbigliamento, dopo la quantità di pioggia che abbiamo avuto di recente, sarete lieti di sapere che le nostre giacche Shellopet RS25K sono il top della gamma e sono super resistenti. Vi presentiamo le giacche e le Shellopet RS25K, nuove nella gamma e costruite per prestazioni sensazionali. La gamma comprende tre capi, la giacca a cammo cacchi, la giacca a cammo a tre quarti e la Shellopet. Queste giacche e pantaloni impermeabili offrono una durata e una precisione tecnica senza pari, perfette per le condizioni più difficili. L'impermeabilità è assicurata da una struttura a triplo stato in TPU laminato con un rating di 25.000 mm, pur mantenendo una traspirabilità di 3.000 g in metro quadro. Le caratteristiche di entrambe le giacche includono cuciture completamente nastrate e tessuto esterno resistente all'acqua per la massima protezione, tasche sul petto foderate in tricot con ampi, deflettori e cernieri impermeabili YKK, oltre a tasche inferiori per le mani con cerniere YKK. Doppia cerniera principale YKK impermeabile a due vie per una maggiore comodità. Cappuccio completamente regolabile per una maggiore copertura. Orlo e culisse in vita a doppia uscita per una vestibilità personalizzabile. Polsini parzialmente elasticizzati con strap regolabili per un perfetto equilibrio tra vestibilità e flessibilità. Continuando la linea di abbigliamento dalle prestazioni eccezionali, le salopette RS25K offrono protezioni e comfort. Le caratteristiche principali includono Baffle interno per una maggiore protezione Tasche cargo Vita parzialmente elasticizzata per una maggiore vestibilità e comfort Spallacci elasticizzati e regolabili con marchio Fox per una vestibilità sicura e personalizzabile Tessuto rinforzato e imbottito sulle ginocchia per resistere all'uso intenso e offrire un maggiore comfort Accesso agli stivali con cerniere impermeabile YKK Strap regolabili alla caviglia per una vestibilità perfetta intorno agli stivali Le giacche e le salopette RS25K sono resistenti, impermeabili e intraspiranti Progettate per garantire il comfort massimo in condizioni difficili Disponibili dalla S alla 4XL A seguire due nuove sedie, una della nuova gamma Voyager e una giunta alla gamma EOS Vi presentiamo la Voyager Guest Chair, una sedia pieghevole, leggera e compatta, progettata per la massima praticità, perfetta per la pesca mobile e per offrire agli ospiti un posto a sedere quando si uniscono a voi per una birra Realizzata in tessuto Voyager Marl e dotata di braccioli rivestiti in eva per un maggiore comfort con un elegante struttura verde Voyager È una sedia compatta con dimensioni di 51 cm di larghezza, 40 cm di profondità della seduta, 58 cm di altezza dello schienale e 20 cm di altezza da terra E pesa solo 2,75 kg, il che la rende una facile aggiunta al vostro kit Questa è la EOS Lounger Chair, progettata per garantire il massimo relax e comfort durante le sessioni di pesca Pur rimanendo eccezionalmente conveniente rispetto alle opzioni simili presenti sul mercato Questa sedia a secchiello offre un sedile in poliester imbottito e braccioli rivestiti in micropile di lusso Per un maggiore relax godetevi il poggiatesta a doppia imbottitura in micropile e scegliete tra 4 posizioni reclinabili per trovare l'angolo di relax perfetto Con 4 gambe regolabili per garantire la stabilità sui terreni regolari, questa sedia si adatta alle vostre esigenze Con una regolazione delle gambe di 33 cm fino a 48 cm Nonostante l'ampia larghezza di 75 cm e la profondità di seduta di 53 cm Si ripiega in modo compatto in soli 75 x 75 x 20 cm La sedia EOS Loungeer è il compagno perfetto per i pescatori attenti al comfort Il FoxTarp originale ha riscosso un enorme successo e ora abbiamo aggiornato l'originale e abbiamo introdotto 4 opzioni nella gamma Vi presentiamo la soluzione definitiva per le vostre avventure all'aperto I nostri teli leggeri sono progettati per la versatilità, offrendo molteplici adattamenti di riparo che possono essere montati in pochi minuti Grazie a due nuovissimi pali in quattro parti è possibile regolare facilmente l'altezza in base alle proprie esigenze Sia che si tratti di creare un'area ombreggiata, una doppia copertura per il bivi o un riparo rapido per un acquazzone improvviso Il telo è dotato anche di 4 bulloni di fissaggio in modo da potergli aggiungere altri pali quando il tempo cambia Il suo laminato color cacchi non solo si fonde con l'ambiente naturale ma riduce anche la penetrazione della luce Offrendovi un rifugio perfetto dagli elementi Questi teli sono completamente impermeabili e incredibilmente leggeri Per essere trasportati facilmente ovunque vi portino le vostre avventure Proteggere le esche e le attrezzature dalla pioggia, estendere il bivi o creare un riparo per cucinare velocemente Le possibilità sono infinite E quando è il momento di fare i bagagli si ripiegano in modo compatto in una borsa di trasporto con picchetti e cordi inclusi Sono disponibili due opzioni di colore, camo e verde marna È possibile scegliere tra due dimensioni Il telo più grande misura 430 cm x 345 cm con un peso di stoccaggio di soli 2,55 kg Mentre l'opzione più piccola offre 320 cm x 320 cm con un peso di soli 2,15 kg Entrambi si riducono a un sottile e maneggevole 60 x 10 cm Ovunque vi porti il vostro viaggio partite preparati con i nostri tarp leggeri e compatti La nostra gamma di luci e torce frontali si amplia con la torcia ricaricabile Halo Multicolor 500C altamente funzionale e conveniente Questa è la torcia perfetta per la pesca alla carpa Il vostro strumento essenziale per tutte le vostre manovre notturne Con il suo ampio e potente fascio di led bianchi questa torcia offre fino a 500 lumen di luminosità Garantendo una visibilità cristallina anche nelle notti più buie Il led bianco è dimerabile e sono disponibili anche opzioni di colore verde e rosso per soddisfare le nostre preferenze È dotata di una batteria ricaricabile USB-C di lunga durata che garantisce fino a 12 ore di utilizzo continuo con una singola carica Con un peso di 70 grammi la torcia è leggera e dispone di un cinturino elastico regolabile per adattarsi in modo sicuro e confortevole Non importa se siete amanti delle bilance digitali o a quadrante Noi possiamo aiutarvi in entrambi i casi Abbiamo aggiunto due bilance a quadrante accanto a quelle digitali già incredibilmente popolari Le nuove bilance Fox sono destinate a tutti coloro che preferiscono le bilance analogiche per la pesatura dei pesci Queste bilance pesano sia in chilogrammi che in libre e sono disponibili in due versioni Una da 27 chilogrammi e una da 54 chilogrammi La versione da 27 chilogrammi ha incrementi di 100 grammi Mentre quella da 54 chilogrammi ha incrementi di 200 grammi Entrambi sono a giro singolo per una maggiore precisione Hanno un quadrante di azzeramento nella parte superiore e sono dotati di un gancio in acciaio inossidabile e di un anello per appenderli Da tempo ci viene richiesto di realizzare waters più grandi per facilitare l'ingresso e l'uscita Ed è esattamente quello che abbiamo fatto Si tratta dei Fox HD XL waters progettati per garantire comfort, durata e facilità d'uso Questi waters sono sovradimensionati per essere indossati e tolti con facilità Anche quando si va di fretta verso le canne da pesca Sono di colore khaki e hanno una tasca interna sul petto per gli oggetti essenziali Sono dotati di cinghie elastiche regolabili e di una fodera in poliestere per il comfort e il movimento Sono disponibili nelle taglie da UK 7 a UK 12 Con questo si conclude il nostro lancio di novembre Buona fortuna a chi si recca presto a pesca e per maggiori informazioni su tutti i prodotti che avete visto in questo lancio